Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ricordate Danilo Toninelli, l'ex ministro delle infrastrutture del Movimento 5 Stelle, oggi se non sbaglio rappresentante di qualcosa, agente di commercio. Toninelli, che era quel ministro che si definiva il miglior ministro che l'Italia abbia mai avuto, lui che lavorava pancia a terra oltre 12 ore al giorno, vi ricordate come si allogiava, eccetera, eccetera. Solo che quello che lui crede di essere stato non è quello che gli italiani pensano di lui e continua a pontificare sui social con un discreto seguito e dice delle cose francamente molto discutibili, se mi permettete il termine. E così l'ex ministro dice, mi ricorda il super bonus. Ma chi gli ricorda il super bonus? Quella legge disastrosa che ha portato allo sfascio i conti pubblici? Eh sì, lui esulta per la direttiva sulle case green perché gli ricordano il super bonus. Ecco, sono ricordi per lui molto belli. Così accosta la normativa europea sulle case ecologiche al disastroso super bonus 110% che ha portato un aggravio ai conti pubblici di 160 miliardi di debiti per rifare le case a 4 milionari. Ma tace sui costi di quello che la direttiva sulle case ecologiche porterà in Italia. Perché il super bonus, idea buona, risultato disastroso, una legge, come diceva Draghi in Parlamento, furioso, una legge fatta da gente per caso, da politici per caso, una legge fatta così male che ha permesso anche le più grandi truffe ai danni dello Stato. E così il nostro caro Danilo Toninelli, pancia a terra, fa una sorta di pubblicità regresso, non progresso ma regresso. Intanto lui pubblicizza questa direttiva dell'Unione Europea sulle case green che porterà, non si sa come, a dover rifare 5 milioni di case ma in realtà sono 12 milioni, se no varranno meno della metà perché poi quando Tizio Caio Sempronio non rifarà la casa con i crismi europei, quella casa varrà anche la metà. Poi dice la tua casa non è a norma europea, valeva 150 mila, vale 75 mila, io te la compro a quel prezzo se vuoi e poi chi la compra dovrà poi ristrutturarla e farla aderente alla direttiva dell'Unione Europea. Quindi ci potrebbero essere 12 milioni di case italiane che vanno a metà prezzo, al 50%. Se non è adeguata la normativa europea, quando tu vuoi venderla come la casa del tuo vicino, stessi metri ma la casa del tuo vicino è a norma europea e la tua no, la tua casa vale la metà. Come diceva qualcuno, quando verranno alla mia porta ci penserò io, guardate che non verrà nessuno alla vostra porta. Il fatto è che quando vorrete vendere la casa immaginatevi, non immaginatevi liberi come disse la Ferragni, ma immaginatevi con la casa a metà prezzo. Ecco, questo è il punto. Le vostre case non aderenti alle nuove direttive europee varranno la metà. Bene, così il super bonus grillino che ha portato le più grandi truffe ai danni della nostra Repubblica, che la nostra Repubblica abbia mai visto, ma lui, questo Tony Nelly, il nostro grande Tony, lui dice che è uno spettacolo, è una cosa pazzesca la direttiva europea sulla casa Green. Magari lui ce l'ha già Green, magari la sua casa è una di quelle che non ha bisogno di nessuna ristrutturazione, ce ne sono tante. Solo che tu, grande politico del panciaterra, dovresti pensare alle 12 milioni di case che ci sono in Italia, dove gli inquilini ovviamente non avranno i soldi lì in banca pronti per fare queste ristrutturazioni. Ma lui dice che è una roba pazzesca la direttiva europea sulla casa Green, e poi dice che tra l'altro è la stessa roba del super bonus. Ecco, già il grande ex ministro che parla di roba, è la stessa roba, è un linguaggio molto terra-terra, molto molto terra-terra. Intanto parte con il suo post, il suo video, con una parolaccia che io non ho ripetuto, perché è un modo di dire, ma realmente è una parolaccia. Quindi quando lui dice pazzesca la direttiva europea, antepone una parolaccia, e poi dopo poco parla della stessa roba. Insomma, bisognerebbe avere un linguaggio un po' più forbito per chi si ritiene il più grande ministro che l'Italia abbia mai avuto. E lui dice la stessa roba del super bonus 110 che avevamo fatto in Italia noi grillini, brutti e cattivi, e che la Meloni e Salvini hanno cancellato. Nessuno ha mai detto che i grillini siano brutti e cattivi. La gente invece ha pensato che i grillini, insomma, politici per caso, non erano proprio adatti a stare in politica. Quindi nessuno, caro Tony, ha parlato di brutti e cattivi grillini. No, semplicemente persone un po', come si può dire, sto cercando dei termini, diciamo persone prese così a caso e messe in politica, l'inesperienza in politica ha portato ai disastri. Super bonus e reddito di cittadinanza. Le più grandi truffe ai danni dello Stato. Quindi gli italiani non pensano che i grillini siano brutti e cattivi, pensano che non abbiano le capacità per poter stare in politica. Vi piace come l'ho detto? Ci sarebbero tante altre parole, ma utilizzo delle parole gentili. Voi mi capirete. E così la Meloni e Salvini hanno cancellato. Il super bonus l'hanno portato avanti per un anno. L'hanno cancellato dopo, quando hanno capito che era veramente il buco che stava facendo nei conti pubblici era impressionante. E poi dice lui, il grande ex ministro, la nuova direttiva europea, Case Green, non vi ricorda il super bonus? No, non c'entra niente. Non c'entra assolutamente niente, ma completamente niente. Però lui è Tony Nelli, insomma. Bisogna anche contestualizzare chi dice le cose. Sapete cosa dice la direttiva? No, dicelo tu, Tony. Che ogni Stato membro deve mettere i pannelli fotovoltaici sopra gli edifici pubblici e smettere di dare incentivi alla produzione di caldaie obsolete che usano fonti fossili di incentivare le ristrutturazioni di abitazioni che siano così meno energivore e inquinino di meno. Tutte cose a vantaggio delle piccole e medie imprese nazionali dei cittadini. Eh sì, a vantaggio proprio, Tony, delle piccole e medie imprese. E chi le paga, le piccole e medie imprese, per ristrutturare 12 milioni di case? Eh, Tony Nelli? Eh vabbè, insomma, dai, ne ha dette poi altre, però mi fermo qui. Dai, non possiamo parlare solo di Tony Nelli. Però vi ho già abbastanza fatto divertire, giusto? Arrivederci a tutti e grazie.